Ciao, creatura! Io sono Ecati Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di CosaI e S.M.O. Questa sera proseguiamo con la lettura, dato che mi è stato richiesto tanto tempo fa e ho detto, ah, giusto, dovevo anche continuare quel libro, miti, misteri e leggende del Veneto. Nostro segnalibro amati da arcobaleno ci dice che siamo fermi alla provincia di Vicenza. Villa Valmarana è celebre per gli affreschi che Gian Battista Diebola, il genio pittorico del Settecento Europeo, realizzò intorno al 1757 con temi mitologici e classici come le scene riportate dall'Iliade, dall'Eneide, dalla Gerusalemme, Liberata e dall'Orlando Furioso. Un vero florilegio, non so se si legge così questa parola, di colori, cieli azzurri e simboli in uno straordinario rincorsi di pene amorose e azioni epiche. Ma non solo, una poetica e tristissima leggenda rimanda alle statue dei nani da giardino che danno il nome alla villa, conosciuta proprio come Valmarana ai nani, allineati sul muro di cinta a guisa di piccole guardie. Una leggenda che parla di un amore infelice, ovviamente, c'è scritto ovviamente, non è un mio commento, torniamo indietro di qualche secolo. Un erete dei Valmarana, proprietari della villa che abitano ancora in questa meravigliosa dimora, racconta che in questo posto fosse vissuta una nobile famiglia, non la loro però, che aveva una figlia dal viso bellissimo, ma nana. Per far sì che nessuno si accorcesse della sua condizione, i genitori la circondarono di altri bambini nani e la fecero vivere in una sorta di gabbia dorata da cui però non poteva uscire. Un giorno accade l'inevitabile, pur con tutti gli accorgimenti presi. La bimba, cresciuta e diventata una ragazza, dalla finestra vide passare il solito bellissimo principe che le sorrise guardando il suo incantevole volto. Lei se ne innamorò all'istante, un colpo di fulmine si direbbe, e lo chiamò da una terrazza, ma quando il giovane vide il suo corpo minuto, fuggì e non si fece mai più vedere. La poverina allora si rese conto di quale fosse il suo fisico, la disperazione si fece preda di lei e si lanciò nel vuoto. I nanetti, saliti sul muro di cinta per capire cosa stesse succedendo, videro la triste fine della fanciulla e per la disperazione il dolore si pietrificarono all'istante. E sono su quei muri, ancora oggi, forse a sorvegliare e a cercare di proteggere le figlie dei proprietari. Bella, insomma bella, più o meno. Bella la conclusione dei nani che proteggono, ma poi c'entrano la storia. Gli ignomi di Asiago. Volere tornare bambini è il sogno di tutti. Tornare a fantasticare con la mente, credere a storie meravigliose e popolate di curiose creature e dall'aspetto simpatico. Se volete passare a una giornata diversa e immergervi in un mondo fantastico, potete andare ad Asiago, dove esiste un vero e proprio villaggio degli ignomi. Di cui uno in particolare, Siben, è proprio il simbolo della cittadina più importante dell'alto piano dei sette comuni. Il dubbio sull'esistenza degli ignomi è faccenda lunga, tanto che già Paracelso, medico e astronomo svizzero dei primi anni del Cinquecento, fu il primo a darne notizia, supponendo che il loro nome derivasse dal greco Gnosis, vale a dire conoscenza. Sosteneva poi che fossero spiriti della Terra ed era convinto che si riuscissero a spostare nel sottosuolo, esattamente come noi umani facciamo sulla crosta terrestre. In tutta l'Europa si sa che gli ignomi sono alti più o meno 15 centimetri, che vivono circa 400 anni, che hanno una lunga barba e un alto cappello di feltro rosso fatto a cono, che sono dotati di una forza straordinaria e che abitano nei boschi, in simbiosi con la natura, in casette costruite sotto gli alberi. Questi esserini meravigliosi si possono accomunare ai folletti, agli elfi, alle fate e ai sanguinelli o salvanelli. Questi ultimi che abitano tra rocce e alberi sono creature dolci e spiritose e in Veneto, il loro territorio è proprio nell'alto piano dei sette comuni. La caratteristica dei salvanelli è quella di fare scherzi agli umani. E leggenda vuole che se si calpestano le loro orme è facile smarrire la strada che si vuole percorrere. Per concludere, la zona di Asiago è magica, popolata, forse, ma io sono convinta proprio di sì, di creaturine fantastiche, difficili a vedersi perché si nascondono molto belli e non amano mostrarsi in pubblico più di tanto. Un delizioso luogo di realtà fantastica per ogni persona che vorrà andare a scoprirli vivendo una giornata memorabile e ripetibile. I graffitti misteriosi della Valdassa Nell'alto piano dei sette comuni ci si imbatte in un luogo che descrivere come misterioso è francamente riduttivo. Ci riporta infatti indietro di millenni, a tempi preistorici dunque. Incisioni rupestri con simboli sconosciuti riempiono l'intera parete che costeggia il Dunkelwald, vale a dire il bosco nero, qui già nei tempi preistorici passava una strada per arrivare al fondo valle, popolato sia da pastori sia da cacciatori. Si è venuti a conoscenza di queste meraviglie solo dopo il 1966, quando la grande alluvione spazzò via i muschi e i detriti che ricoprivano queste pareti di roccia di origine glaciale e si palesarono i graffiti, testimonianze arcaiche e criptiche di una vita che era cosa altra rispetto alla nostra. I graffiti più antichi risalgono alla fine del primo millennio avanti Cristo e sono principalmente quei segni incisi che rimandano a costruzioni e alle stelle a cinque punte, dette anche pentagramma, che riportano al mondo dell'astronomia e quindi a quello della magia. Le stelle si suppone potessero incatenare le forze maligne e proteggere da streghe e sogni malvagi. Oltre a questi graffiti si possono osservare anche immagini di pugnali risalenti probabilmente all'età del rame, vale a dire al terzo millennio avanti Cristo, armi che si mettevano come correto nelle tombe. In Valdassa rimangono anche i graffiti dell'età cristiana, quindi i croci di tutte le forme, da quella greca e latina fino a quelle appoggiate su un piccolo calvario. Dall'età cristiana al Medioevo il passo è breve e di questo periodo sono le incisioni di tipo antropomorfo, antropomorfo, dalle figure sessuali avvolti con gli occhi molto evidenziati per evitare così il malocchio, dalle teste di uccello su corpi umani fino alla figura con due corna. Non mi starò ancora tutto da svelare, ma dal fascino irresistibile e senza tempo. Il covolo della regina Lumignano Sono le grotte e i luoghi naturali che da sempre hanno regalato conforto a chi le usava come timora, magari poco comode, ma certamente utili per rifugiarsi e ripararsi da pioggia, vento, neve o animali pericolosi. A volte sono risultate utili anche solo per avere un minimo di calma e tranquillità, ma non furono solo gli uomini preistorici ad averle abitate come case o come luoghi di riflessione. Anche i santi ne fecero largo uso per meditare. A Lumignano esiste uno di questi luoghi. Caverne accanto a una sorta di terrazza a strappiombo sulla valle, dove San Cassiano e San Diobaldo, anche se non vi sono notizie storiche che lo dimostrino, si ritirarono dedicandosi alla preghiera. Ovviamente trattandosi di angoli affascinanti e ricchi di misteri. Leggende, i miti, sono fioriti come margherite a primavera. Quindi sarà facile incontrare o immaginare di incontrare fate, folletti, anguane, orchi, streghe e magari anche lo spirito di una regina buona e dall'animo assai generoso. In questo caso la leggenda è talmente forte da aver dato anche il nome a questo luogo, il covolo della regina. La regina di cui si parla sarebbe Adelaide di Borgogna, nata intorno al 931 e morta nel monastero di Sels in Alsazia il 16 dicembre del 999. moglie, madre e nonna di tre imperatori. L'intelligenza, ma anche una particolare attenzione verso i poveri e i disredati, oltre all'impegno a condurre una vita cristiana, furono i tratti caratteriali che la distinsero e fecero sì che la chiesa cattolica la canonizzasse santa nel 1097. A 15 anni gli sposa l'otario di Arles, re degli italici, ma il matrimonio dura poco, nemmeno tre anni. Nel 950 l'otario muore, probabilmente avvelenato da Perengario, Marchese di Ivrea, che ambisce alla corona italiana. E a quel punto la leggenda narra, senza alcuna notizia storica che lo confermi, in quanto fu ad Alberto Atto di Canossa a dare rifugio alla poverina nella sua roccaforte in provincia di Reggio Emilia, che diede anche il nome alla casata, che la regina si trovasse proprio alluminiano nel covolo, ossia nello spocco del torrente che ora prende il suo nome. La tradizione orale continua dicendo che Adelaide fu così riconoscente a quei luoghi che le dietero la salvezza da voler mandare per il resto della sua vita doni a coloro che proprio lì andavano a pregare. Spero che ti continui a piacere il fatto che sto leggendo questo libro. Se vuoi che lo continuiamo, come al solito, lasciami un like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanella. Buonanotte, 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 buonanotte. Se vuoi richiedere un video, scrivimelo nei commenti oppure contattami su Instagram, mi trovi con il nome che ti è splendente. Ti auguro buonanotte, buonanotte, ciao creatura.